sono convinto che la vita è molto di più di quello che ci vogliono far credere sono convinto che c'è qualcosa là fuori che dobbiamo andarci a prendere sono convinto che ognuno di noi ha talento, ognuno di noi ha qualcosa in cui è bravo ma è normale che se facciamo qualcosa che non ci piace, se facciamo qualcosa per cui non siamo portati non ci sentiamo all'altezza dobbiamo trovare quello che ci piace, dobbiamo trovare quello che ci appassiona e dobbiamo farlo perché è importantissimo per essere felici è importantissimo per capire cosa vuol dire vivere per capire cosa vuol dire avere un sogno per capire cosa vuol dire andare a dormire con un'idea in testa, con una visione in mente svegliarti motivato per andare a lavorare al tuo sogno dobbiamo capire che cosa vuol dire riporre la felicità non nella cima della montagna ma nella scalata e cosa vuol dire imparare a diversirsi mentre si lavora ma che vuol dire mettere impegno e sacrificio per un qualcosa, per un domani che stiamo aspettando e trovare gioia durante il percorso dobbiamo capire che vuol dire smetterla di sentire gli altri smetterla di ascoltarli, smetterla di sentire quello che ci stanno dicendo dobbiamo capire cosa vuol dire lavorare lavorare duro, avere una direzione distinguere il movimento dal progresso distinguere il progresso dal movimento capire che il lavorare duro non è abbastanza se non siamo portati che il lavorare duro non è abbastanza se non è quello che ci piace lavorare duro non risolverà tutte le nostre problematiche dobbiamo capire che il successo non sono i soldi ma la felicità dobbiamo capire che il successo è riuscire a fare quello che ci rende felici riuscire a costruire quello che vogliamo costruire riuscire a raggiungere i nostri traguardi dobbiamo capire che i nostri traguardi vanno selezionati da noi stessi e non dagli altri dobbiamo capire che la vita è una che non abbiamo altre opportunità che dobbiamo cercare di sfruttarla al massimo dobbiamo capire che il nostro tempo libero racconta più del tempo che spendiamo al lavoro o all'università dobbiamo capire che tutti abbiamo 24 ore dobbiamo capire che queste 24 ore che sono date a tutti ci portano in posizioni diverse quindi come lo usiamo è fondamentale il tempo libero in queste 24 ore determina il tuo successo determina dove arrivi dobbiamo capire che se riusciamo ad essere felici adesso saremo felici sempre dobbiamo imparare a sottovalutare quello che non abbiamo sovravalutare tutte le cose che abbiamo e che stiamo dando per scontare e non il contrario dobbiamo capire che le persone intorno a noi sono fondamentali per capire dove vogliamo arrivare per capire chi siamo e per capire quali sono i nostri obiettivi dobbiamo circondarci di persone con talento con ambizione che vogliono le cose che vogliamo noi dobbiamo uscire dalla comfort zone dobbiamo uscire da quello che è comodo dobbiamo provare dobbiamo fare dobbiamo metterci all'azione pensare sognare non ci porterà da nessuna parte dobbiamo capire che l'azione l'atto di fare qualcosa di cominciare è fondamentale se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi dobbiamo capire tante cose dobbiamo capire tante cose e queste che ho detto sono solo frutto della mia intuizione è quello che penso io è quello che penso sia il mondo può essere condiviso o non può essere condiviso